Ehi che fai, devi vendere casa Qui c'è Rexer che ti sta aspettando Che servizio davvero speciale Che bellezza questo immobiliare Grande Rexer può far bacco Vendi casa che sollozzo Se vuoi vendere casa vai su Rexer.it e richiedi una valutazione gratuita Rexer, vendiamo casa tua a chi la sogna Cosa c'è dietro a un grande business? Un partner che connette i talcali e il nostro sale Sicilia al mondo intero Un partner che connette le porte scrigno di oggi con quelle di domani Un partner che connette i nostri ospiti ad una nuova esperienza di benessere Winter Business connette l'oggi e il domani della tua azienda Mettici alla prova Vieni su winterbusiness.it Piacere, luglio e agosto Non ditemelo, il condizionatore Esatto, dottore La bolletta è sempre una sorpresa Con l'offerta Luce 12 Dolomiti Energia Quello che consumi in 12 mesi lo paghi in 12 rate, tutte uguali Accendi una nuova idea di cucina Elica Extraordinari cooking Come avete visto su Idealista, questo è l'ampio soggiorno Portiamola qui fuori che prende un po' d'aria Qui sul terrazzo La tua casa è su Idealista Vieni a vederla Quella? Cabina armadio Il tumore al seno rappresenta il 30% di tutti i tumori femminili Ogni anno in Italia si registrano circa 55.000 nuovi casi Ma con un'adeguata diagnosi precoce le possibilità di contrastarlo sono altissime Per questo Acqua e Sapone è a fianco di tutte le donne Insieme alla Lilt ha creato il primo tour della prevenzione del tumore al seno Dal 5 ottobre al 2 novembre potrai effettuare una visita senologica gratuita Nei punti vendita selezionati di Acqua e Sapone in tutta Italia Vai su Acqua e Sapone e Forciareti.it per conoscere le date delle 21 tappe del tour E partecipare a 4 webinar gratuiti della Lilt sulla prevenzione contro i tumori Inoltre con Acqua e Sapone diventa anche tu testimonial della prevenzione Cerca i prodotti in promozione delle aziende che affiancano Acqua e Sapone in questa iniziativa Acquistandone due ricevi in omaggio i braccialetti con charms Acqua e Sapone Insieme possiamo fare la differenza Non mi piace C'è ancora molto da scoprire Guarda, questa sì mi piace E questo mese potete avere uno sconto esclusivo di 2000 euro sulle nostre cucine Siamo così buoni che ti facciamo compagnia tutte le mattine Nonostante tutto Scopri i nuovi cioccorecolussi Pezzettoni di cioccolato in una frolla deliziosa Autentici come te Questa è Giulia E questo è il suo sistema immunitario Che a volte ha bisogno d'aiuto Per questo c'è Actimel Con vitamine D e B6 Che raggiungono l'intestino dove vengono assorbite Per supportare il sistema immunitario E in più con probiotico Actimel supporta il tuo sistema immunitario Spinga 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 Amica Cips Il divino quotidiano Un fondo di 600 milioni di euro per aiutare le famiglie ad acquistare beni alimentari di prima necessità Dedicata a te è una carta che i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro Potranno ritirare all'ufficio postale dopo aver ricevuto a partire dal 9 settembre Una comunicazione dal comune di residenza Per i possessori della carta che abbiano i requisiti anche nel 2024 L'importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente La carta permette di acquistare prodotti alimentari Con promozioni dedicate nelle attività convenzionate Carburante o abbonamenti per il trasporto pubblico locale Per riconnetterci alla felicità Quella autentica Basta dare valore alle cose più semplici e vere È la nostra ricetta tutta italiana per la felicità Da condividere con tutti voi Piccini 1882 La famiglia italiana del vino Pensi che riuscirai a farmi piacere il cioccolato fondente? Certo Ma non è troppo amaro? Non questo cioccolato Ma è buonissimo Te l'avevo detto che mi sarebbe piaciuto Dai Maitre Chocolatier L'Intexcellence Scopri il piacere del fondente Se potessi ogni giorno goderti lo spettacolo della natura Che colpo di scena! Ristruttura il tuo condominio con Acrobatica Possibilità di finanziamento fino a 160.000 euro Più tecnologia e connettività di ultima generazione La vita è più semplice con Tucson Scopri la gamma Tucson Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid Tua da 139 euro al mese Con l'Università Telematica Giustino Fortunato Segui i tuoi corsi come e quando vuoi Con docenti d'eccellenza al tuo servizio Ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla Università Giustino Fortunato Fai la scelta giusta L'enoteca è bellissima, Pino Enoteca Pinoteca E il sito? Pinoteca. Il nome del tuo sito è su Aruba Domini Prendilo prima che sia troppo tardi Lo senti? Adesso si è fermato anche il vento Una strage annunciata Una tragedia italiana La 7 presenta Vaillant La diga del disonore Domani sera alle 21.15 Sulla 7 Quando il tuo intestino si blocca Ti blocchi anche tu Contro la stitichezza Puoi provare Olligol Ammorbidisce le feci Liberandoti dalla stitichezza con delicatezza Olligol Via il peso della stitichezza E per la tua regolarità intestinale Puoi provare anche Olligol Fibre Nuovi mirtillini Murino Bianco Armonia Farina integrale Mirtilli rossi e semi di chia Da oggi quello che ti piace Ti fa anche sentire bene Scopri tutta la linea Mulino Bianco C'è un mondo più buono Nuova Dacia Spring Da 14.900 euro per tutti Grazie ai vantaggi Dacia Vieni nei nostri showroom A scoprire la nuova city car elettrica Anche domenica Il tuo gatto è un maestro di equilibrio Proprio come Purina One Defensys Bilancia i batteri intestinali Per aiutare a proteggere il suo microbioma Perché quando sta bene dentro Si vede Purina One Salute visibile Oggi ed umani Inizia subito il programma 3 settimane Per risultati visibili Già dal primo giorno Purina One Le naturelle famiglia Lionello Uova buone dal 1950 Presenta il concorso Egg & Win Puoi vincere ogni giorno un iPhone 15 Pro E aggiudicarti il super premio finale Una Fiat 500 elettrica Solo con le naturelle Abbiamo a cuore i suoi sogni Perché da sempre vi siamo vicini E vi accogliamo in tutta Italia E con salva spesa portiamo sulla vostra tavola Bontà e gusto a prezzi bassi Come i frollini Crai Con gocce di cioccolato a 1,59 euro Crai nel cuore dell'Italia Cosa serve per dormire bene? Comfort Il benessere igienico E ovviamente un buon sistema letto Confortevole e di design Come solo per dormire sa darti E adesso c'è il fuori tutto Con tasso zero e prima rata a gennaio Scopri il nuovo letto Nevada Il materasso Cosi Sleep O letto Bahamas E materasso Memory Active Plus Per dormire Design for Wellness Chi fa il proprio lavoro con passione Ama Chi sente i colleghi come una famiglia Ama Chi ogni giorno si prende cura di tutto Dalle materie prime all'ambiente Ama Chi rispetta le buone tradizioni Ama Chi trova nuovi modi di rendere tutti felici Ama Chi cucina per gli altri Ama Amatori Gente che ama 500 euro per l'assicurazione auto 500 euro per l'assicurazione auto 500 euro per l'assicurazione auto L'assicurazione auto è così cara Che non riesci a pensare ad altro Falla facile Vai su facile.it Trovi l'assicurazione più conveniente per te A partire da 131 euro all'anno Facile.it 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 Risparmiare è facile E puoi risparmiare anche su luce e gas A partire da 50 euro al mese Prova Nonna Perché hai le cuffie? Questo è Brundi Amico Super Voice Premo qui e le voci intorno a me vengono amplificate Amico Super Voice È molto più di un telefono Brundi Chi parla? Signore e signori Benvenuti Megalopolis al cinema La rivoluzione è iniziata Nuova Citroen C3 Da 49 euro al mese 100% elettrica o benzina Siamo noi Siamo i creatori dell'oggi Giriamo il mondo per riconoscere Che il posto dove vogliamo vivere E dove sono nati i nostri nonni Lì potremmo lasciare un mondo più autentico Ai nostri figli E Mentaler Svizzero DOP Share a piece of you Nel nome Explorer C'è una promessa E per mantenerla Abbiamo portato l'elettrico dove non era mai arrivato Sfruttando un'autonomia fino a 602 km Attraverso le sabbie del deserto E le piogge monsoniche Affrontando un viaggio intorno al mondo Nuovo Ford Explorer Tuo a 395 euro al mese Lunedì sulla 7 Buonasera Corrado Augias conduce la Torre di Bapele Chi sta uccidendo i nostri giovani? Ospiti Giovanni Floris Massimo Recalcati Ed Emma Ruzzon Ci siamo? E a seguire Prova, prova 1, 2, 3, prova Barbero risponde Lunedì 14 ottobre Dalle 21 e 15 Sulla 7 Mille e una volta Mille per sempre G&B 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 Nastri adesivi professionali Grande parata Erano anni che non vedevamo per me No! 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 Scusa Ma hai staccato la fibra No! E tu come fai ancora a vedere la partita? Ho Vodafone sempre connessi Vieni Se qualcuno stacca una rete fissa Si attacca in automatico la rete mobile Sono con Vodafone Se hai la rete fissa e immobile La connessione c'è sempre Scopri sempre connessi in negozio Andate in negozio Le tue idee La nostra tecnologia Attento! Vuoi fare la frittata? No! Le paste frolle Solo uova e latte freschi italiani Mmm! Buone! Meglio della frittata Paste frolle Balocco Fate i buoni Una finestra è una finestra Invece no Ocnoplast ha i profili sottili Che danno più luce E la maniglia centrale è davvero elegante E puoi approfittare delle detrazioni del 50% Un pezzo di design al prezzo di una finestra Ocnoplast Le finestre di design Corri da Troni Dal 26 settembre al 16 ottobre Con una spesa minima di 99 euro Presenta la tua carta fan Troni Ti scontiamo l'IVA su tantissimi prodotti evidenziati Scopri di più sul nuovo sito troni.it Troni Non ci sono paragoni Naso chiuso a causa di virus e batteri Per non rinunciare a stare bene con gli altri Puoi provare l'acqua di mare di Rinazzina Acquamarina Con formulazione ipertonica In un gesto tre azioni Le congestiona Idrata la mucosa E aiuta a rimuovere virus e batteri Rinazzina Acquamarina Nuovo tourneo Courier A 19.900 euro Basta Voglio dormire Di notte potrebbero uscire gli annunci migliori Sei lì dentro da un'ora Infatti sto cercando casa con due bagni È proprio fissato con questi annunci immobiliari Holmes Ci tocca uscire Con immobiliare.it ti basta salvare la ricerca e attivare le notifiche Così ti avvisa immobiliare.it appena escono nuovi annunci Immobiliare.it Notevoli queste notifiche Con un prezzo Aldi Aldi Questa settimana da Aldi tornano gli extraformati Tonno XXL 6x70 grammi a 3,99 euro E olio di semi di girasole XXL a 5,99 euro Turutututurututu 1848 Milano insorge Contro gli austriaci Le 5 giornate di Milano Aldo Cazzullo conduce la nuova stagione di Una giornata particolare Mercoledì alle 21 e 15 Sulla 7 Entra nell'onda croccante Bottoli Bottoli Bontà che fa croc La serata di La 7 è stata offerta da Siamo diventati casa insieme E se tornassi indietro ti sceglierei di nuovo Scavolini La più amata dagli italiani Piacere Settembre Non me lo dire Il visore Il joypad Esatto dottore La bolletta è sempre una sorpresa Con l'offerta Luce 12 Dolomiti Energia Quello che consumi in 12 mesi Lo paghi in 12 rate Tutte uguali Accendi una nuova idea di cucina Elica Extraordinari cooking Ginger ed io Vi ricordiamo che da lunedì al sabato 18.30 Più o meno La domenica no Perché siamo al parco Cosa c'è? C'è? Famiglie d'Italia Dillo Ginger Almeno il titolo Famiglie d'Italia Da lunedì al sabato 18.30 Al parco ci andiamo domenica Flavio Insinna conduce Famiglie d'Italia Dal lunedì al sabato Alle 18.30 Sulla 7 La rivoluzione è iniziata Nuova Citroen C3 Da 49 euro al mese 100% elettrica o benzina Scegliamo il fiorfiore dei territori Delle tradizioni Dei sapori Dei colori Il fiorfiore della terra Del gusto Delle storie Dei mari Di specialità uniche Il fiorfiore dei profumi Dei paesaggi Per portarti il meglio Della cultura enogastronomica Che illumina le tavole di tutti I prodotti fiorfiore di Coop Provali con il 25% di sconto La Coop sei tu Quando arriva l'acidità C'è chi è pronto ad aiutarti Biochetasi acidità e digestione È un triplice aiuto Contro acidità Gonfiore e pesantezza Biochetasi acidità e digestione Ci puoi contare Due automobilisti Stessa auto Stesso modo di saltare la coda al casello Eh no, non è lo stesso Io ho un Ippolmuf Oltre al tempo Risparmio anche sul canone Sono un euro e cinquanta al mese E gratis i primi sei mesi di canone Fatti furbo Passa un Ippolmuf Borotalco Uomo Presenta Nuovo Borotalco Uomo Abbraccia la vita Nel nome Explorer c'è una promessa E per mantenerla Abbiamo portato l'elettrico dove non era mai arrivato Sfruttando un'autonomia fino a 602 km Attraverso le sabbie del deserto E le piogge monsoniche Affrontando un viaggio intorno al mondo Nuovo Ford Explorer Tuo a 395 euro al mese Liberati dallo stress Supera la stanchezza Chiedi magnesio completo Principium Magnesio da quattro fonti organiche e inorganiche Per ritrovare la serenità Principium Chiedi l'eccellenza alla natura Da Biosline Sentite questa I veri ribelli oggi rispettano le regole Non si muovono soli contro tutti Ma uniti per il bene di tutti Cambiare il mondo per loro Significa pensare al pianeta Sono giovani di tutte le età E i pregiudizi Li abbattono ancora Come quello che dice Che se non sei alla guida Allora non sei I veri ribelli oggi Non scelgono un movimento Scelgono di muoversi In sintonia con i tempi Regionale Rebel Revolution Bella e bella Però chissà quanto mi costa di assicurazione Compara le migliori assicurazioni online E risparmia sulla polizza auto e moto Segujo.it Il comparatore Senza confronti Internet wifi a partire da 18,99 euro al mese È possibile con IREN Internet wifi senza limiti di traffico Zero costi iniziali di attivazione Se avere tutto non ti sembra possibile È perché ancora non hai scelto IREN Scopri tutte le offerte su IRENLUCEGAS.IT Se potessi ogni giorno goderti lo spettacolo della natura Che colpo di scena! Ristruttura il tuo condominio con Acrobatica Possibilità di finanziamento fino a 160.000 euro Più tecnologia e connettività di ultima generazione La vita è più semplice con Tucson Scopri la gamma Tucson Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid Tua da 139 euro al mese Questo programma è presentato da Le finestre in alluminio asciuco Rendono confortevole e proteggono la mia casa Qui mi sento sempre più sicura Sciuco le finestre in alluminio da sempre Per sempre My Mocha Induction Adatta a tutti i piani di cottura Finalmente il vero sapore del caffè italiano Pedrini Reinventa la Mocha Lo senti? Adesso si è fermato anche il vento Una strage annunciata Una tragedia italiana La 7 presenta Vaillant La diga del disonore Domani sera alle 21.15 Sulla 7 Miele una volta Miele per sempre Il tuo gatto è un maestro di equilibrio Proprio come Purina One Defensys Bilancia i batteri intestinali Per aiutare a proteggere il suo microbioma Perché quando sta bene dentro Si vede Purina One Salute visibile Oggi ed umani Inizia subito il programma 3 settimane Per risultati visibili già dal primo giorno Purina One Scegliamo il fiorfiore dei territori Delle tradizioni Dei sapori Dei colori Il fiorfiore della terra Del gusto Delle storie Dei mari Di specialità uniche Il fiorfiore dei profumi Dei paesaggi Per portarti il meglio Della cultura enogastronomica Che illumina le tavole di tutti I prodotti fiorfiore di Coop Provali con il 25% di sconto La Coop sei tu Capelli forti e corposi Merito di un professionista Merito tuo Con Biopoint Professional Air Program La qualità professionale per rivitalizzare e idratare i tuoi capelli Con Biopoint Professional Air Program La professionista sei tu Medaglia d'oro in sollevamento nipotini No, ha solo dormito meglio Con Ziquil Natura Gommosa la melatonina Dormi bene E diventi un campione ogni giorno E ora Ziquil Natura È disponibile anche in formato spray senza zucchero Prova il nuovo spray Dalla natura della Mongolia Kashmir Ultrafine Naturale Morbido Leggero Quattro stagioni Falconeri Puro Kashmir Yes Of course Nuova corsa da 11.900 euro Con incentivi statali In pronta consegna Faccio fatica a digerire Mi sento gonfia E se ti dico Jeffer Jeffer con la sua triplice azione Agisce velocemente Su acidità Con fiore e nausea Jeffer Alleato contro il mal di stomaco Corri da Troni Dal 26 settembre al 16 ottobre Con una spesa minima di 99 euro Presenta la tua carta fan Troni Ti scontiamo l'IVA Su tantissimi prodotti evidenziati Scopri di più sul nuovo sito troni.it Troni Non ci sono paragoni Una finestra è una finestra Invece no Ocnoplast ha i profili sottili Che danno più luce E la maniglia centrale È davvero elegante E puoi approfittare Delle detrazioni del 50% Un pezzo di design Al prezzo di una finestra Ocnoplast Le finestre di design Ampie all'orizzonte Della tua bellezza Scegli Bioniche Defense My Age Per elevare la qualità Della pelle ad ogni età In sinergia Con gli integratori alimentari Well Age Per una pelle Biologicamente più giovane Defense My Age Da Bioniche in farmacia E su Bioniche.it Fotovoltaico tutto incluso È possibile con IREN Il tuo nuovo impianto fotovoltaico Tutto incluso A partire da 4.690 euro Se avere tutto Non ti sembra possibile E perché ancora Non hai scelto IREN Scopri tutte le offerte Su IRENLUCEGAS.IT O chiamalo 896 96 96 96 Con prezzo Aldi Aldi Questa settimana da Aldi Tornano gli extra formati Tonno XXL 6x70 grammi A 3,99 euro E olio di semi di girasole XXL 5,99 euro Quando è stata l'ultima volta Che ti sei innamorato Dovresti provarla Nuova Alfa Romeo Junior Learn to love again Nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Da 250 euro al mese Scopri anche l'elettrica Su alfaromeo.it L'enoteca è bellissima Pino Enoteca Pinoteca E il sito? Pinoteca.it Il nome del tuo sito è su Aruba Domini Prendilo prima che sia troppo tardi Una porta G di Dorigo Le sopporta tutte Beh, quasi tutte Porte G di Dorigo Belle, italiane Testate per resistere Quasi a tutto Ogni grande avventura Ha il suo supereroe Viaggia verso mondi favorosi Nuova Vitara Hybrid È qui Tecnologia da incentivi Fino a 14.500 euro di vantaggi Che è il suo supereroe di vantaggi Che è il suo supereroe di vantaggi Se non sei cliente Se non sei cliente Attivalo anche online Dopo aver aperto Credem Link Credem Well Banking People Nuovo Renault Capture E-Tech Full Hybrid Da 119 euro al mese Con incentivi Renault Scoprilo nei nostri showroom Scegliamo il fiorfiore dei territori Delle tradizioni Dei sapori Dei colori Il fiorfiore della terra Del gusto Delle storie Dei mari Di specialità uniche Il fiorfiore dei profumi Dei paesaggi Per portarti il meglio Della cultura enogastronomica Che illumina le tavole di tutti I prodotti fiorfiore di Coop Provali con il 25% di sconto La Coop Sei tu Borotalco Uomo presenta Nuovo Borotalco Uomo Abbraccia la vita Pril presenta Ciclo Eco con questo sporco E allora C'è Pril Pril Excellence è il numero uno Contro lo sporco incrostato Anche a basse temperature Cambia programma e risparmia energia Con Pril Excellence Passando al ciclo Eco Con Pril Excellence Puoi risparmiare il 20% di energia Sul soggiorno completo Questo mese Hai uno sconto esclusivo Di 1500 euro Wow Arredissima Se di notte non respiri bene Di giorno non sei riposato E anche le cose semplici Si complicano Rinazzina apre le vie nasali Rapidamente e a lungo Anche in caso di sinusite Così puoi respirare meglio E dormire meglio Rinazzina Da Troni fino al 16 ottobre Con una spesa minima di 99 euro Presenta la tua carta Fan Troni Ti scontiamo lì Va sui prodotti evidenziati Come sull'asciugatrice Slim Beco da 8 chili Profondità 46 cm In classe A++ Troni Non ci sono paragoni Come avete visto su Idealista Questo è l'ampio soggiorno Portiamola qui fuori Che prende un po' d'aria Qui sul terrazzo La tua casa è su Idealista Vieni a vederla Quella Cabina Armadio Idealista E se l'attesa del Black Friday Fosse essa stessa Il Black Friday Eh? Beh vuol dire che il Black Friday di Skoda È già arrivato Con Skoda È già tempo di Incredible Black Friday Fabia Young Edition È tua Da 70 euro al mese Scoprila con Con Black Features Rearview Camera E sensori di parcheggio Anticipo Zero Con eco-incentivi Anche per neopatentati Affrettati Offerta valida Solo fino al 31 ottobre Skoda 4% per 12 mesi Senza vincolare i risparmi Per non lasciartelo sfuggire Saresti disposto a tutto Anche ad andare a cavallo All'indietro Fare immersioni con la maschera Di carnevale O leggere il giornale Al bagno turco Con ING È tutto più semplice Apri conto corrente arancio E credita lo stipendio Hai il 4% Per 12 mesi Sul tuo primo conto arancio Scegli ING Abbiamo a cuore i suoi sogni Perché da sempre Vi siamo vicini E vi accogliamo in tutta Italia E con Selva Spesa Portiamo sulla vostra tavola Bontà e gusto A prezzi bassi Come il parmigiano Reggiano Crai A 1,79 euro Crai Nel cuore dell'Italia Segui la 7 Anche in verticale Registrati sulle nostre piattaforme Per rimanere sempre aggiornato Sui nostri contenuti esclusivi Le migliori interviste I documentari I nostri contenuti podcast Tutte le puntate Dei tuoi programmi